Nuovo passo in avanti verso la realizzazione dello svincolo dell'autostrada A2 a Settimo fra Rende e Montalto Fugo. Il Comune di Rende infatti ha approvato gli accordi di programma quadro per le opere accessorie, ovvero il ponto di collegamento fra la futura stazione ferroviaria Santa Maria di Settimo e l'Università della Calabria e il tratto dell'ex statale 19 utilizzando la sede autostradale di Smessa. Un'infrastruttura derivante all'accordo fra Comune di Rende, Comune di Montalto Fugo e Regione Calabria che permetterà di avere un accesso diretto all'Università della Calabria e alla zona industriale di Contradalecco ma che sarà strategico anche per decongestionare il traffico nella zona di Quattromiglia, ovvero quella in cui è collocato lo svincolo di Cosenza Nord e che al momento serve alla zona di Rende, la zona industriale, l'Unical, oltre che il collegamento con la strada statale 107 Silana Crotonese. Dunque un nuovo passo in avanti per la realizzazione dello svincolo e delle opere accessorie che avranno un costo superiore ai 30 milioni di euro. Grazie a tutti!